Ciao a tutti, queste due parole attraggono tutte le donne. In questo video voglio insegnarti due parole che tu puoi usare se vuoi attrarre delle donne, se vuoi dare l'immagine di un uomo che sa conquistare, quindi conquistare le donne che ti interessano. Prima di affrontare questo tema però ti chiedo di iscriverti al canale e seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco. Iscriviti, ci tengo molto a questo nuovo canale perché se ti iscriverai e se farai iscrivere i tuoi amici e quindi questo canale raggiungerà 100k di iscrizioni entro il 30 giugno, io farò un seminario gratuito di tre ore sulla seduzione, sulle tecniche e strategie di seduzione. E quindi penso che sia un'opportunità, insomma, quindi come dire, doubt des, fate iscrivere i vostri amici, create un effetto catena in modo tale che poi ci sia questo seminario. E veniamo al tema. Allora, queste due parole attraggono tutte le donne. Allora, quali sono le parole che... perché le parole sono ipnotiche. Le parole seducono, le parole conquistano. Non dobbiamo pensare che le parole siano delle cose messe lì così. Le parole hanno un significato profondo e le parole possono attrarre, possono conquistare, possono fare innamorare. Allora, vediamo quali sono queste due parole che attraggono tutte le donne. Dobbiamo tenere presente questo, che le donne sono attratte, come ben saprai, dal maschio alfa. Ci sono diversi maschi, tipologie di maschi. C'è il maschio alfa, che è il maschio dominante, che è quello che accede a tutte le donne. Cioè, paradossalmente, il maschio alfa, vuol dire, non riesce a soddisfarle tutte, perché ne ha talmente tante che deve mandarne via qualcuna. E quelle qualcuna che manderà via saranno quelle disponibili per i maschi beta. Allora, tu dici, ma chi sono questi maschi beta? Beh, i maschi beta sono i maschi... ...segregari. Poi esistono anche i maschi omega, gli ultimi della lista. Insomma, potremmo definire tutta la lista, arriviamo fino agli omega. I maschi omega sono quelli che... sono gli ultimi, sono gli sfigati, quelli che proprio non hanno accesso a nessuna donna. Paradossalmente, tra l'alfa e l'omega c'è l'alfa che ha donne, come dire, che non sa che farsene. E il beta che vivacchia, diciamo così, una vena e mezzo, è l'omega che proprio non riesce a rimorchiare un chiodo, come si dice da qualche parte, neanche a pagare l'omega riesce a averle le donne. Ecco, quindi che ci sono queste due differenze e tu devi imparare ad essere un maschio alfa. Perché avrai accesso a tutte le donne? Quali sono le caratteristiche del maschio alfa? Beh, le caratteristiche del maschio alfa sono due caratteristiche fondamentali. È un uomo che piace alle donne ed è un uomo che guida gli uomini. Quindi il maschio alfa, etichettato come il leader di uomini, è uno che attira le donne. Il fatto che attira le donne innesca un meccanismo di preselezione, per cui le donne lo considereranno attraente, lo considereranno seducente. E tu quindi devi utilizzare, diciamo, delle strategie che vedremo, perché sto iniziando questa nuova serie di video. In questo canale sono partito occupandomi delle donne. Adesso voglio creare questa rubrica, come sedurre le donne, dedicata agli uomini. Quindi una parte del canale, almeno una rubrica, sarà dedicata agli uomini. Non è che le donne non possono vedere questi video. Anche se non dovrebbero vederli, perché poi vanno a scoprire tutti gli altarini. Quindi donne, non guardate questi video. Perché sennò poi mi scoprite tutti gli altarini e questi maschi come fanno a sedurvi. Però in teoria poi le guarderanno anche le donne. Però voglio creare questa rubrica, come sedurre le donne. Proprio per dare spazio alle donne. Cioè dare spazio agli uomini che vogliono sedurre le donne. Allora, e quindi parleremo di varie cose, come diventare maschio alfa, come mettere in atto le strategie per essere etichettati come maschio alfa. Ma vediamo queste due parole. Allora, la prima parola è voglio. Sembra strano, ma la parola voglio è seducente, perché dà l'idea di un maschio volitivo. Adesso non è che tu devi dire... Devi usarla questa parola. La mente parli con una donna, devi dirle... E voglio dirti che... Guarda, voglio essere chiaro in queste... in questa circostanza. Voglio affermare il mio pensiero. Cioè, usi la parola voglio su... Beh, voglio affermare il tuo pensiero. Chi è che ti impedisce di affermare il tuo pensiero? Poi voglio essere chiaro. Voglio dire le cose come stanno. Voglio essere sincero. Insomma, tutte parole, tutte frasi che sono socialmente accettabili. Ma la parola voglio farà intendere che tu sei un maschio alfa, perché tu vuoi. Ecco, questa è la prima parola che devi imparare a mettere un po' dappertutto. Insomma, devi metterla un po' dappertutto, questa parola voglio. Perché è molto, è molto, è molto, è molto importante. E l'altra parola, che in realtà non è una parola, ma è più che altro un concetto, sarebbe la persona to lead, la parola to lead, deriva dall'inglese guidare. E quindi far vedere che tu prendi delle decisioni, sei volitivo, sei decisionale. Quindi tutto quello che guida, ho deciso, ho fatto sì che quelle persone facessero. Insomma, tutto quello che può essere rimandato alla figura di to lead inglese. Perché noi guidare intendiamo guidare la macchina, no? In realtà nella lingua inglese c'è to drive, che è guidare la macchina, e to lead, che è guidare le persone. In italiano c'è guidare, quindi... Ma in realtà questa parola è specificamente riferita a to lead, guidare. Quindi devi utilizzare le tue espressioni che ho fatto in modo che, ho tenuto che, ho consentito che, ho deciso che. Ecco, tutte queste parole che possono essere ricondotte, diciamo, nello scatolone to lead, ti fanno percepire dalle donne come maschio alfa, come maschio dominante. E quindi come maschio interessante. Provare a prechere a dare. Lascia scritto nei commenti qua sotto cosa ne pensi, se hai mai usato questi termini, se funzionano. Insomma, scrivi qua sotto nei commenti. E dai un contributo alla community. Inoltre ti ricordo di iscriverti al canale e seguirmi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. E ti ricordo che se ti iscriverai al canale Crescita Personale con Massimo Tramasco e farai iscrivere i tuoi amici, più amici possibili, diffondendo su WhatsApp, Facebook, Instagram, eccetera, Messenger, più si diffonderà, più cresceranno rapidamente e riusciremo a fare questo corso gratuito di seduzione dal 30 giugno. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!